...della situazione dell'agenzia Trenkwalder, pressing dei sindacati perché si arrivi ad una soluzione per i dipendenti diretti. Giorgio Maria Leone. 59 lavoratori sospesi dal 7 dicembre senza retribuzione e senza ammortizzatore sociale. Da quando è stato decretato il fallimento dell'agenzia Trenkwalder, la situazione risulta bloccata. I dipendenti diretti non possono accedere alla disoccupazione perché non è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo. Il curatore fallimentare ha dovuto infatti valutare le possibilità di cessione dell'azienda, operazione ormai completata. Quest'ipotesi per noi è definitivamente tramontata, per cui chiediamo che il curatore decida di aprire una procedura di licenziamento collettivo che poi risolveremo molto probabilmente con un accordo di uscita volontaria dal lavoro, in modo tale che questi lavoratori che ancora ad oggi sono in carico e non sono ancora riusciti a trovare un'alternativa lavorativa possano uscire, essere licenziati e quindi accedere a quello che è l'unico ammortizzatore possibile che è la Naspi. Le uniche proposte d'acquisto di rami d'azienda hanno riguardato l'area commerciale. Questo ha permesso di ricollocare gli ultimi 400 lavoratori somministrati. Dal 9 febbraio, è l'impegno del curatore, i dipendenti diretti che non avranno trovato occupazione alternativa potranno aderire alla mobilità volontaria ed accedere alla Naspi. Si darà corso a una procedura di mobilità volontaria per tutti i dipendenti diretti, di modo che possano scattare gli ammortizzatori sociali. Rimarranno in carico alla procedura una quindicina di persone che la procedura utilizzerà per le attività di recupero dei propri crediti e di accertamento delle possibilità.